di ritorno dal milano high end come sempre faccio passare un po di tempo prima di raccogliere le idee ed esprimere qualche sensazione qualche opinione su quello che ho vissuto su quello che ho visto su quello che ho ascoltato ed è abbastanza necessario anche perché per me queste fiere sono un grandissimo impegno proprio fisico oltre che mentale nel senso che chiaramente sono molto concentrato nella presentazione e promozione dei nostri prodotti che per noi è veramente cosa importantissima io a differenza di altri non faccio mistero che dal punto di vista commerciale la nostra partecipazione a queste tre manifestazioni organizzate da stefano zaini è molto importante per noi è ovviamente non solo una vetrina ma anche sempre la speranza di poter vendere i nostri prodotti i nostri appassionati direttamente e questa opportunità di vendita diretta e anche opportunità d'incontro di scambio di idee di percepire di toccare con mano se mi si passa questa affermazione in senso lato anche le esigenze di coloro che si confrontano con la nostra produzione quindi ovviamente ripeto è un grande impegno e ormai da molti anni non ho molto spazio e molto tempo per fare il turista per così dire ovvero per andare ad ascoltare piacevolmente e a mente serena i tanti impianti che vengono proposti dal punto di vista professionale però c'è questa curiosità professionale ovviamente di cercare di capire di percepire un po la sensazione del momento e quindi magari un po velocemente magari negli orari non consoni per il normale visitatore cerco di farmi un'idea certamente non di tutto perché è impossibile ma di qualcosa poi capita che invece normalmente una o due sale diventano oggetto delle mie attenzioni con appunto maggiore precisione maggiore puntualità per un fatto ovvio e forse anche banale ovvero per il fatto che queste sono le sale dove normalmente decido di effettuare le mie presentazioni grazie innanzitutto alla disponibilità degli importatori che gestiscono questi spazi oppure dei costruttori insomma di volta in volta devo dire che quest'anno a parte la mia presenza istituzionale nella sala di stefano zaini con il suo ormai ben noto impianto che anno per anno viene cesellato sempre con maggiore attenzione giocando anche sulla continuità dell'utilizzo sempre della stessa sala per cui la personalità di quell'impianto è sempre molto attenta molto in linea con quelle che sono le intenzioni del costruttore quindi questa volta non parlerò della sala di stefano ma di un'altra sala e di un altro impianto con cui per la prima volta mi confrontavo devo dire sorprendente sorprendente è l'aggettivo giusto perché mi ha sorpreso e io credo che dal mio punto di vista sorprendere me da parte di un impianto di riproduzione sonora è già un risultato interessante importante vista la quantità di acqua che è passata sotto ai ponti della mia attività di lungo corso di appassionato professionista del settore questo impianto è quello proposto dalla ditta audio plus del perfetto eccellente straordinario emanuele bassetti la sala era al piano meno uno e partiamo proprio da questa devo dire una delle sale migliori se non la migliore di tutti gli spazi del milano a yend perché faccio questa affermazione perché come sono entrato ho percepito subito questa proporzione aurea delle misure forse appena un po carente nell'altezza ma lunghezza e larghezza veramente proporzioni perfette altezza forse un pelino scarsina ma comunque entro i limiti della tolleranza ma evidentemente soprattutto alcune accortezze adottate da emanuele per renderla perfetta per compensare quelle lievi mancanze quei modi indotte soprattutto da questa altezza non non proprio perfetta e poi quella colonna centrale sicuramente fastidioso da un punto di vista estetico e forse anche funzionale per il pubblico presente ma assolutamente io credo strategica come elemento di rottura di onde anomale e di onde stazionarie pericolose non ho fatto misura a riguardo vado ovviamente a intuito per esperienza di quello che vedevo e di quello che sentivo ma proprio quello che sentivo mi ha veramente colpito e il presupposto per valorizzare un impianto di quel tipo decisamente importante come vedremo fra un attimo era proprio quella di metterlo nelle condizioni migliori di esprimersi migliori per quanto possibile in uno spazio fieristico e qui apre una parentesi una piccolissima nota polemica che non posso non aprire perché mi capita regolarmente di assistere sempre in queste manifestazioni invece ad allestimenti discutibili discutibili perché soprattutto gestiti in ambienti o troppo piccoli quindi con impianti non adeguati alle dimensioni piccole ma viceversa anche in sale troppo grandi ora io non credo di dire una grande e clamorosa novità ma sale tanto grandi spingono più alla ricerca di impianti pa che di impianti ai fai e mi spiace dire questo quando poi queste sale non sono un minimo trattate non sono circoscritte ad esempio con un sistema di pannellatura eccetera è inevitabile che il risultato sonoro anche di impianti clamorosamente validi sulla carta clamorosamente costosi non possa che essere un po deludente chiuso a parentesi e torniamo invece a questo straordinario impianto che ho sentito devo dire che parlerò soprattutto della parte analogica di questo impianto ovvero della sorgente analogica perché è quella che ho usato in via praticamente esclusiva visto che la presentazione era basata praticamente in via esclusiva sui nostri nuovi vinili e devo dire che la prima sensazione veramente di stupore è stata al cospetto del sistema analogico di lettura sistema analogico di lettura composto vado a leggere per non sbagliare dal giradischi tecdas air force terzo premium e dalla testina e zuro gold ma ovviamente non potendo dimenticare il prefono della al nick l'h7000 v a valvole ecco questo trittico è veramente impressionante per quello che riesce a fare partiamo proprio dal giradischi e dalla testina che offrono un sistema di lettura dei vinili di una precisione impressionante questo l'ho notato nei difficilissimi solchi finali di ciascuna facciata sapete come in un disco in vinile ci sia una grande variabilità di resa in funzione del posizionamento delle tracce via via che si va verso il centro diventa sempre più problematica la lettura e questo proprio per il complesso gioco geometrico del del braccio in rapporto al piatto e alla testina installata ebbene in questo caso non ho notato nessuna differenza dall'inizio alla fine di ciascuna facciata e questo è già un complimento incredibile e poi una silenziosità una precisione di tracciamento e permettetemi la bestemmia che fa ricordare quasi una sorgente analogica e ripeto è un iperbole è un eccesso questa affermazione evidentemente ma giusto per rendere l'idea tutto questo inserito in questa catena con il prefono che ho citato con pre amplificatore linea e finale della solution in particolare il 725 il 511 per arrivare poi a questi diffusori che io lo confesso non avevo mai sentito prima i martin serie mingus settima martin mingus settima ho scoperto che la martin usa nominare i propri diffusori con grandi artisti dell'epoca d'oro del jazz bene dicevo il risultato una volta seduto al vertice del triangolo ideale mi ha letteralmente incollato e forse la definizione l'aggettivo più appropriato per questo sistema per il suono che ne usciva è quello di naturalezza ovvero potremmo anche dire quell'altro termine che a me piace tantissimo e cioè trasparenza intendo dire io ho riconosciuto in questa riproduzione alla perfezione il suono che avevo voluto inserire nel vinile che poi è esattamente il suono che io avevo percepito mentre registravo queste musiche meravigliose che sono andato a riproporre in particolare veramente folgorante la riproduzione di project one questo disco incredibile che contiene questa performance pure live come direbbero quelli quelli bravi realizzate a quest'estate alla fine di luglio a roma nella chiesa di san gregorio settimo con l'organo mascioni con i sax di david jackson e con la sapienza e la perizia di marco lomuscio alla tastiera e alla pedaliera dell'organo ebbene questa fisicità questa percezione di realtà viene riproposta da questo impianto in modo disarmante e è un impianto che dà di più anche rispetto ai miei impianti monitor di riferimento ovviamente il suono è quello perché il suono è uno solo alla fine no e quindi i grandi sistemi vanno in quella direzione ma come ho detto altre volte rispetto al mio pur irrinunciabile impianto monitor di riferimento pesato sulle neumann kh420 questi impianti cesellati costruiti pensati per la riproduzione domestica di non alto ma altissimo livello riescono a dare una completezza finale e scusate se sto cercando dei termini della lingua italiana che non siano quelli triti del linguaggio del bravo critico audiofilo e che al tempo stesso rendano al meglio l'idea di quello che voglio comunicare dicevo una completezza di suono aggiungono quel qualcosa di in più ma sempre nella direzione del dello scavo della realtà del suono registrato che un impianto monitor nel suo rigore e nella sua assoluta crudeltà nel presentare esattamente quanto inserito nel supporto registrato non riescono magari a dare forse sto dicendo che aggiungono qualcosa il che verrebbe in qualche modo a sottrarre la plausibilità del concetto di trasparenza a cui io sono molto legato ma in realtà non è così perché aggiungono qualcosa ma sempre nella direzione di un ancora maggiore trasparenza riescono per qualche per me imperscrutabile motivo forse ad andare a scavare nei segnali a bassissimo livello ancora meglio di quanto non faccio un monitor da studio questa è un'ipotesi per esempio interessante da valutare ovvero forse riescono a essere dotati di ancora maggiore risoluzione in grado appunto da mettere in evidenza dei microparticolari che regolarmente si trovano nella parte a più basso livello del segnale che che un monitor da studio magari non riesce a fare e questo ovviamente è un lavoro sinergico fra i tre poli dell'impianto quindi la sorgente l'amplificazione e i diffusori è evidente come l'amplificazione di potenze i diffusori garantiscono tutta quella dinamica mista a rapporto segnale rumore silenziosità incredibile in grado da veicolare l'incredibile capacità di tracciamento veramente per me inaudita del sistema di lettura analogico è qui che proprio ci giochiamo la grandezza dell'impianto e tutto questo io l'ho valutato senza sapere minimamente cosa costasse ciò di fronte a cui mi ritrovavo ad ascoltare la mia musica poi ovviamente ho voluto anche avere un metro un metro di paragone per capire di cosa stessimo parlando anche in termini economici e lì purtroppo è arrivata la doccia fredda perché evidentemente forse come sempre ma forse oggi ancora più che in passato ecco che il listino prezzi cioè i prezzi da nuovo al listino di questi oggetti gelano veramente il sangue nelle vene perché non andiamo a farne un mistero i diffusori martin mingus settima al listino sono a 115 mila euro l'amplificatore di potenza sol solusion 511 36 mila il preamplificatore di linea solusion 725 a 46 mila euro il prefono al nick h7000 v 16.300 euro il giradischi tecdas air force terzo premium 40 mila euro e la testina forse l'oggetto proporzionalmente più costoso più delicato più raffinato questa etsuro gold a 18.500 euro totale 271 mila 800 euro a listino e facciamo conto che a uno che spende questi soldi magari i cavi pur costosi pur di valore vengano omaggiati che dire io mi sono sempre scagliato contro questi costi furiosi della hi fi del resto già negli anni settanta gli schianto scantavano che i gelati sono buoni ma costano milioni e quindi forse questa equazione è veramente invalicabile forse anch'io devo alzare le mani certamente certamente dopo aver conosciuto questo prezzo e dopo lo shock iniziale superato lo shock iniziale di aver conosciuto questo prezzo ho fatto due ragionamenti per capire e a questo punto facendo un rapido confronto mnemonico con le centinaia di altri impianti che io ho sentito e di cui conosco i prezzi dai più bassi ai più alti dicevo ho cercato di capire se in qualche modo se in qualche modo questi costi potessero essere giustificati allora in termini assoluti forse no in termini relativi si in termini relativi si in termini relativi si sapete adesso ripeto tre volte le cose di cui sono veramente convinto perché nella mia memoria sono subito comparsi una serie di altri oggetti dai costi superiori ma dai risultati sicuramente buoni sicuramente anche ottimi ma comunque inferiori a quello che ho sentito in questa sala e a questo punto torno alla prima definizione che ho dato di questo impianto ovvero sorprendente sorprendente è proprio il primo aggettivo che mi è venuto quando ho iniziato ad ascoltare e mi ha sorpreso proprio perché evidentemente si staccava da tantissimi altri impianti più o meno di riferimento che io ho ascoltato ho avuto occasione di ascoltare nel corso della mia vita a questo punto verrebbe il passaggio finale il migliore che abbia mai ascoltato no non mi permetto di fare questa affermazione anche perché come sapete io detesto le classifiche che sono figlie anche di condizionamenti temporanei di tante variabili la classifica secondo me non è mai affidabile perché oggi può essere di un tipo domani di un altro certamente e questo senza evidentemente nessunissimo dubbio un impianto che si colloca ai vertici assoluti e che forse se io fossi milionario multimilionario multimilionario non semplicemente milionario cioè avere un capitale di un milione secondo me non giustifica l'acquisto di un impianto di questo di questo costo bisogna averne di più ecco se fossi multimilionario sarebbe certamente un impianto a cui potrei pensare di avvicinarmi proprio così com'è e questo è l'ultimissimo punto che voglio andare a sottolineare perché come dice molto spesso per non dire sempre il mio amico Pier Giorgio Levorato non basta andare nell'annuario prendere gli oggetti più costosi e metterli insieme ed essere sicuri che l'impianto suonerà no evidentemente bisogna fare un lavoro di cesello di ricerca di prova di confronto per riuscire a trovare elementi pur eccellenti ma che siano perfettamente sinergici fra di loro ed ecco che scatta la qualità del distributore e o del negoziante di turno questo caso Emanuele Bassetti che è una delle grandi personalità del mondo dell'hifi italiana da ormai tantissimi anni è certamente e questo impianto e questa situazione ne danno l'ulteriore riprova uno dei migliori da questo punto di vista ovvero una persona dotata di quella sensibilità e di quella attenzione che gli consente di arrivare a questi risultati che ripeto altri altri che magari dispongono di oggetti di pari valore forse non sono così bravi a metterli insieme e quindi a garantire un risultato di questo così alto livello e questa è un po la sintesi dell'ascolto di questo impianto straordinario che ho avuto il piacere di scoprire a Milano e anticipo già non so se Emanuele porterà lo stesso impianto anche a Roma fra circa un mese ma certamente io sarò presente nella sua sala vi darò tutti i dettagli per tempo perché perché a questo punto voglio essere presente nella sala di Emanuele Bassetti a prescindere da cosa porterà perché sono sicuro che allestirà un impianto di altissimo profilo e dal risultato garantito a Roma poi sarà presente anche in altre due sale ma di questo ne parleremo in un altro momento bene questa è la mia esperienza a Milano a cui ovviamente devo aggiungere e nuovamente sottolineare il piacere di aver potuto incontrare moltissimi di voi perché voi sapete che io sono un vecchio dinosauro e nonostante sia costretto a proporre attraverso gli straordinari ragazzi di reference music store i miei prodotti online ma mi piacerebbe e mi piace ogni volta che è possibile poter incontrare i miei clienti che poi in breve finiscono col diventare anche amici e qui permettetemi una mezza battuta sono molto contento di aver affidato la parte commerciale a una persona terza alla famiglia perché poi io sono un sentimentale e in passato ho fatto anche forse troppi regali con la scusa dell'amicizia a detrimento e a discapito del mio profilo commerciale che è esiziale e determinante perché se noi non riuscissimo a continuare a vendere i nostri dischi evidentemente questa realtà non esisterebbe più e quindi grazie per l'amicizia grazie per la stima e grazie a tutti i clienti che continuano a scegliere di acquistare i nostri prodotti anche per oggi siamo al termine di questo video forse come sempre un po troppo verboso ma io sono fatto così mi piace parlare vi lascio all'ascolto di oggi che è tratto evidentemente da uno degli ultimi lavori di grande qualità che abbiamo realizzato e inevitabilmente inesorabilmente anche per oggi that's all folks all'ascolto di oggi 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 di oggi